Guarda, Man Girl It, Marciano era veramente interessato a lei. Tuttora, l'ultima volta che ci ho parlato, mi ha sempre detto che è una bellissima ragazza, a me esteticamente mi piaceva tantissimo, ci avrei voluto costruire qualcosa. Se fosse stato per lui, lui ne parla sempre bellissimo di Desiree. Il problema è che è stata lei, come si è comportata, quindi sì, Mattia era interessato. Valentina Vignali ti sta insultando nella sua diretta. Eh, boh, io non la conosco sinceramente. Ma dire ti sei comportata male, hai preso in giro un ragazzo, non è una cosa offensiva, secondo me. Le offese sono altre. La popper ha fatto una diretta insultandoti, cioè cosa ha detto? Dai, così si prende quei due o tre followers, poverina, che non la caga nessuno. Cosa ne pensi di Valentina? Valentina Vignali dice, non lo so, non la conosco sinceramente. Stanno parlando di te in un'altra diretta. Ma chi diretta è? Ma io mi chiedo, ma la gente che è stata nella mia diretta per poi andare a riferire a Desiree che parlavamo di lei, ma che turbe ci avete? Ma che malattie mentali ci avete? Ma fatevi una trombata, fatevi una vita, sfigati. Dai, oh.